buongiorno a tutti oggi un primo piatto strozza preti a ragù di prosciutto crudo e funghi tritiamo finemente aglio cipolla e prezzemolo tagliamo a cubetti del gambuccio di prosciutto crudo che molte volte troviamo in offerta sottovuoto sul banco salumi facciamo rosolare in una padella con un filo d'olio l'aglio, la cipolla e il prezzemolo uniamo il prosciutto crudo tagliato a cubetti, i funghi, io ho usato il champignon, voi potete utilizzare anche i porcini aggiungiamo qualche pomodorino tagliato a spicchi facciamoli saltare velocemente a fuoco vivace e versiamo un po' di panna fresca se non vi piace la panna potete saltare questo passaggio aggiungiamo sale e pepe e facciamo addensare per cinque minuti lessiamo gli strozza preti in abbondante acqua salata una volta cotta la pasta la versiamo nel condimento e mantechiamo andiamo ad impiattare e profumiamo con prezzemolo e timo tritati provate anche questa ricetta e fatemi sapere quanto è buona continuate a seguirmi e iscriviti al mio canale ciao